La Sardegna è interessata, come succede ricorrentemente, però questa volta in maniera veramente imponente, ad un'esercitazione in atto, l'operazione Trident, che mette in linea 36 paesi, 36.000 uomini e circa 230 unità di fuoco. La dimostrazione militare in corso comincia oggi nella fase più acuta e richiama un tema che noi abbiamo più volte sollevato e che purtroppo rimane inascoltato o ascoltato timidamente da parte del governo. La Sardegna è quella che partecipa di più allo sforzo militare dell'Alleanza, è quella che partecipa di più nel Mediterraneo, è quella che è gravata in maniera molto più elevata di tutte le altre regioni e sopra la media nazionale, praticamente oltre il 50% delle servitù e del demanio militare insiste sul suo territorio. Noi pensiamo che questo sforzo che viene sostenuto dalla Sardegna, che viene puntualmente richiesto ai Sardi, con un prezzo altissimo anche sotto il profilo economico dell'interdizione di ampi specchi di mare, con ampi e pregiati territori costieri che sono vincolati al servito militare, noi pensiamo che questo sforzo debba essere finalmente oggetto di una trattativa seria tra Stato e Regione. Non si può marginalizzare questa attività come un obbligo che i Sardi devono dare al destino della Repubblica e al bene della nazione. Al bene della nazione bisogna che ci pensi il Governo e ci pensi anche con l'attenzione dovuta ad una regione che è così pesantemente gravata da un insopportabile ulteriore peso come quello relativo alla servitù e al demanio militare.